L'avvocato Filippo Pavone, vice sindaco di Leporano, con quali altri deleghi e assessorili? Delega ai contratti, agli appalti, al personale, alle politiche demaniali, alla protezione civile, polizia locale, comunicazione istituzionale e tutela degli animali. Un bel impegno gravoso. È un grande onore aver avuto questa fiducia da parte del sindaco e degli altri membri della giunta, ma dell'intera amministrazione. Ritengo che ci spettano cinque anni di impegno costante. Mi piace utilizzare un'immagine, rimbocchiamoci le maniche tutti quanti per lavorare, perché Leporano ha davvero bisogno di tanto impegno, ma davvero tanto. Un giovane per i giovani, si potrebbe dire. Sì, lo slogan della mia campagna elettorale era adesso tocca a noi, cioè la volontà di cambiare finalmente passo in termini di politica, Leporano. Finalmente lasciamoci via, lasciamoci dietro le vecchie generazioni politiche e finalmente apriamo ai trentenni, ai ventenni che hanno voglia di vivere questo territorio. La new age. No, no, no. Diciamo persone che hanno seri valori in testa, però hanno voglia di tradurli, con innovazione, entusiasmo e voglia di fare.